Giorgia Meloni, lei dice che la trova ancora inadatta, inesperta per governare. Io ho detto una cosa diversa, che è talmente banale, che noi l'applichiamo nella vita privata. Una persona che si candida a fare il presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, che ha un lavoro molto complicato, forse solo il sindaco di Roma è più complicato, bisogna che abbia un cursus sonoro, come dicevano i romani, cioè che abbia fatto abbastanza esperienza, o nel privato, o nelle grandi aziende... Ma non ne ha fatta parecchia, ha iniziato a fare il ministro da giovanissima, ha fatto gavetta politica. Una volta, il ministro di un ministero senza portafoglio. Ma lei sa che cosa vuol dire gestire un ministero come per esempio il Mise, che aveva dentro cinque ministeri dall'energia? Allora, io ho lavorato alla Ferrari, ho lavorato a Sky, ho lavorato a Netv, io le dico che quando sono diventato ministro a me mi sono tremate le vene ai polsi. E qualche esperienza gestionale, l'avevo. Quello che mi sono permesso di dire, ma tanto Giorgia Meloni basta che tu gli dici, quello che mi sono permesso di dire è attenzione, governare questo paese, se l'abbiamo visto con quelli che hanno appena fatto casini a Roma, è un lavoro complicatissimo. E come nella vita privata noi sceglieremmo una persona anche sulla base della sua esperienza, che poi magari ci arriverà. Se tu dalla mattina alla sera dici, io ho fatto un ministero senza portafoglio dieci anni fa con Borlusconi, adesso governo il paese, attenzione! Perché poi il rischio che non ti fai male tu, ma che si fa male tutto il paese appresso a te, questo ho detto, non gli ho detto a degli incompetenti. No, probabilmente lei si sente più strutturata di molti altri che sono in politica. Non parlo della politica che stiamo facendo adesso nei talk show, parlo dell'amministrativa. No, no, chiaro. È un concetto molto diverso. Della macchina amministrativa, del governare. Della macchina amministrativa, del governare.